Studio 7 TV e Sport Picciano Game presentano l'intervista di Pietro Ospite della puntata Benvenuto a una puntata, abbiamo ospite Andrea Ward, doppio attore Poi specializzando in mondo del doppiaggio, la prima domanda viene spontanea Se dovessi descrivere chi è Andrea Ward oggi, ma soprattutto rappresentarlo con un personaggio cartonemato, film, come lo rappresenteresti? Intanto ti ringrazio per l'invito, molto gradito Ma le cose che un doppiatore fa nel corso della sua carriera possono essere veramente innumerevoli, infinite Poi per noi che abbiamo cominciato da bambini il lasso di tempo è già molto importante Perché io faccio questo mestiere da 54 anni praticamente Avendo iniziato a 6 anni, grazie a papà Che era già attore doppiatore Che ci inserì in questa arte meravigliosa Ti posso raccontare un aneddoto particolare Cioè un'emozione che io ho ricevuto Proprio grazie al doppiaggio di un'animazione della Disney Quando mi è stato proposto di doppiare un personaggio che non aveva un grandissimo ruolo Nel lungometraggio della Disney Ma per me fu una cosa straordinaria Perché mi fecero doppiare il soldatino americano di Toy Story E quel soldatino era l'esatta riproduzione di alcuni soldatini Che noi da bambini usavamo per giocare i tedeschi e gli americani Quello del film della Disney Toy Story Era il soldatino americano Il capitano del suo piccolo commando all'interno della casa di Andy Ecco, quella per me fu un'emozione immensa Perché richiamava la mia infanzia I miei momenti di gioco Con mio fratello, con gli amici, eccetera E benché non avesse, come ti dicevo Un ruolo molto importante nel film Aveva poche battute Poi c'era un po' in tutte le versioni Che sono state prodotte del film Tranne in una, se non mi sbaglio Adesso non vorrei sbagliare perché è passato un po' di tempo Quella è stata una grande emozione Non è così come è stata una grandissima emozione Quando sono stato scelto per dare la voce a Hulk Al grande cupazzone verde della Marvel E anche lì, insomma, era Rientrava nella, diciamo, nelle attività Della mia infanzia con i fumetti Perché allora noi leggevamo i giornalini In carta, si compravano dal giornalaio e solo lì E anche quello è stato un bel momento Ecco, per quanto riguarda i cartoni Poi ne ho doppiati tantissimi Io sono sempre stato un appassionato Perché avendo avuto quattro figli I cartoni li abbiamo sviscerati Veramente nella crescita Durante la crescita dei miei ragazzi Gli abbiamo fatti vedere tutti Ma veramente tutti Anche quelli un po' indipendenti Un po' diversi da, diciamo, dalla distribuzione commerciale Internazionale che viene fatta di questi prodotti Purtroppo il doppiaggio mette il cartone animato In ultima fascia di contratto E quindi è un po', diciamo, sfavorito Rispetto agli altri generi Che sono i film Ma anche le serie televisive I telefilm, eccetera E questo, diciamo, nel tempo Ha creato un po' di problemi Perché stare in ultima fascia nel contratto Vuol dire fare più righe a turno Quindi più scene a turno per un doppiatore Prendere dei compensi Inferiori rispetto al film o al telefilm E quindi questo può, diciamo Può aver creato dei fastidi Delle incomprensioni, diciamo Mentre io ho sempre ritenuto Che trattandosi di prodotti Che sono comunque rivolti Maggiormente ai bambini Ai ragazzini Avrebbero dovuto avere un'attenzione maggiore Ecco, rispetto Rispetto a quello che invece è stata la real Ma, ahimè, a volte le cose Non vanno sempre come desideriamo, no? E quindi, ecco, io mi sono sempre Approcciato a questo tipo di prodotto Con una grande professionalità Senza stare a fare distinzioni Di fascia contrattuale E dando sempre il massimo E dando sempre il massimo come ho sempre fatto Nel mio lavoro per qualsiasi prodotto Anche per il peggiore dei film che ho doppiato Io ho sempre dato il massimo Di quello che potevo dare Durante quel tipo di Di approccio Alla lavorazione Questo è importantissimo Perché un doppiatore, come dicevi tu all'inizio Hai fatto una piccola annotazione Molto importante Eh, il doppiaggio Il doppiatore specializzato in doppiaggio Questo è correttissimo Bisogna sottolinearlo Perché a volte si confonde un po' Il doppiatore non è Un professionista a parte Rispetto all'attore Il doppiatore non è altro che un attore Prestato ad un altro attore Che parla una lingua diversa dalla nostra Dall'italiano Quindi è veramente una specializzazione dell'attore È una cosa in più È come la specializzazione per un medico Che ha fatto chirurgia E poi magari vuole specializzarsi In un'altra cosa E fa un altro step di studi Per fare in modo che possa verificarsi questo Ecco, l'attore è proprio questo È un Il doppiatore è proprio questo È un attore specializzato anche in doppiaggio E deve studiare per specializzarsi Perché non si passa automaticamente Dall'impianto teatrale Per esempio Per farti capire un po', no? Dall'impianto teatrale al doppiaggio Così è come se non fosse successo nulla Bisogna studiare Bisogna prepararsi Entrare dentro a quella che è la tecnica di doppiaggio Che è assolutamente unica nel mondo dello spettacolo Capire Vedere anche se ci sono le potenzialità Per utilizzare e supportare questa tecnica Insieme poi ovviamente a tutto l'apparato artistico Che un attore mette in campo E poi andarsi a cimentare Nelle varie prestazioni In fondo a volte qualche rappresentazione ci viene data Come uno nessuno centomila Perché una mattina si è un assassino Il pomeriggio si è un criminale È come un po' salire sulla seggio del psichiatra E vivere tante vite Nello stesso tempo Nello stesso giorno Quindi un pochettino complicato Ma alla fine stancante Ma emozionante alla fine No, è la parte assolutamente più divertente E che regala più energie Perché come hai detto tu Io posso fare la mattina Un pirata Su una nave Poi all'una e mezza Durante il secondo turno Mi capita di fare un medico E la sera per chiudere Magari divento un serial killer Questo può sembrare complicato Ma ti assicuro che per noi non lo è assolutamente Ma invece è la parte Interessante Stimolante di questo lavoro Perché tu non fai mai la stessa cosa Non esiste la possibilità di replicare Sì Nel senso che se io faccio Vengo assegnato su un personaggio di una serie Che va avanti Per cinque stagioni Che ti posso dire col case Piuttosto che il commissario Rex Piuttosto che Altre serie Walker Texas Ranger Che abbiamo fatto È chiaro che per alcuni giorni Per diversi giorni Per alcune sessioni Che vanno avanti Magari negli anni Se le stagioni sono molte Tu sei su quel personaggio lì Chiaramente Però in linea di massima La capacità La Diciamo Non la capacità La Possibilità Che un doppiatore Abbia Un allenamento Performante A livelli Stratosferici Rispetto a un attore Che fa solo cinema O teatro Cioè Per farti capire Ti faccio un esempio pratico Un attore che si dedica Prevalentemente al cinema Fa Uno Barra due film l'anno Se è fortunato No? O se in quel momento Magari è uno degli attori In voga E Lo stesso vale per il teatro Anche di meno Cioè Un attore di teatro Fa Una tournée Poi Alla fine di quello stesso anno Magari comincia A provare Per un altro spettacolo Quindi Anche lì Uno Un e mezzo Spettacoli di teatro Nel corso dell'anno Ok Per il doppiatore Invece Questa Quantità Di prodotto Che gli arriva A disposizione Nell'anno È immensamente Superiore Cioè Noi facciamo Quindici film L'anno Sette serie Di telefilm All'anno Più Cinque serie Di cartoni Sette serie Di documentari Due reality Otto spot Pubblicitari L'anno Ma così Adesso dico Numeri Sparati a caso Per farti capire Quindi Diciamo che L'impegno Durante l'anno È massivo È importante Per un doppiatore Allo stesso tempo È una Grande possibilità Di allenamento Continuo Ed intensivo Che permette All'attore Di avere Una preparazione Psicofisica Importante Per quanto riguarda Il suo essere Artista Specializzato In quel tipo Di mestiere È una Un'occasione Particolare È un'occasione Abbastanza rara Ecco Nel mondo Dello spettacolo Tu hai iniziato Chiaramente Il mondo Del doppiaggio È cambiato Tanto Tecnicamente La bobbina Il dvd La vhs Adesso c'è Il digitale Ma Secondo te Quando è cambiato Non solo Tecnicamente Da quando è iniziato Ad oggi Il mondo Del doppiaggio Ma da quando ho cominciato Io è cambiato Moltissimo Il famoso passaggio Diciamo Dall'analogico Al digitale Ma è cambiata La quantità Di produttività A livello nazionale E internazionale È cambiato Anche l'approccio Sono cambiati I numeri Quando io ero Ragazzino Era un bambino A 6 7 8 Fino ai miei 10 11 anni Il gruppo Di bambini Che facevano Doppiaggio Erano Forse 25 20 25 Non credo Che fossimo Di più Era diverso Il mondo Dello spettacolo In quel momento C'era poca televisione Non c'erano ancora Le televisioni private C'erano soltanto I canali Rai Poi dopo un po' di anni Sono arrivate Le piccole televisioni private Ma insomma Con una Potenza di fuoco Produttiva Molto Molto bassa Tant'è vero Che facevano prevalentemente O vecchi film Trasmettevano Oppure dirette Trasmissioni live Eccetera Nel tempo Ad oggi È cambiato Tantissimo È cambiato Tantissimo Anche il mondo Del doppiaggio Noi siamo stati Bravi E abbiamo dovuto Esserlo Abbiamo Resistito Siamo sopravvissuti All'industrializzazione Che è cominciata All'inizio Degli anni Novanta Che ha Diciamo Mangiato Una parte Di quello Che è L'aspetto Di quello Che era L'aspetto Artigianale Di questo Lavoro E lì Sono cominciati Diciamo I primi Problemi Le prime Anomalie E poi Dopo Con la globalizzazione Addirittura L'avvento Di prodotti Da tutto Il mondo Che è stato Un assoluto Vantaggio Dal punto di vista Della possibilità Che un artista Ha Delle Delle Eh Prospettive Che ti si presentano Cioè non arrivavano più Soltanto prodotti Dagli States O dall'Inghilterra O al limite Della Germania Dalla Francia Dalla Spagna Ma addirittura Dal nord Europa Eh Penso a tantissimi film Ma trasmessi anche Dal Giffoni Film Festival Che Importa Nel nostro paese Dei film per ragazzi Straordinari Perché loro fanno Tra l'altro una selezione Molto importante Della filmografia Europea No Per cui ho visto Dei film per esempio Girati in Norvegia Meravigliosi Di cui ho curato Insieme a Cristina Mia moglie L'edizione E poi Dal Dall'Oriente Sono arrivati I film Dalla Thailandia Dalla Dal Giappone Dalla Cina Dalla Corea E Non ti Non ti dico La Sorpresa Di Sentirsi Nella propria cuffia Mentre Si sta A leggio Perché noi Quando incidiamo Abbiamo Una cuffia mono Che ci dà La possibilità Di ascoltare Il suono originale Del film E sentirsi Sentirsi Arrivare Queste Lingue Così Diverse Così Musicalmente Diverse Da quelle Che eravamo Abituati Ad ascoltare All'inizio Non lo voglio Chiamare shock Perché sarebbe Esagerato Però Che si sia Trattato Di un trauma Non c'è Dubbio Perché Per un europeo Diciamo Che un conto È Allinearsi Ad un suono Musicale Delle parole Che viene Dall'Inghilterra Per esempio No? O dalla Francia Che sono lingue La Francia in particolare Molto Molto musicali Molto Molto morbide Molto ammalianti Adeguarsi A lingue Invece Contrariamente Molto Ostiche Molto lontane Dal nostro Modo di parlare Dalla nostra Diciamo Musicalità 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 Buonanotte Musicalità Della nostra Lingua Però ci siamo Adeguati Ci siamo dovuti Adeguare ovviamente Al lavoro Il lavoro Cambia Si evolve Non si è Evoluto O è cambiato Solo il doppiaggio Sono cambiate un po' Tutte le professioni È mancata Negli anni Oggi ci accorgiamo Nel Ormai 2023 Che è mancata Un po' La protezione Del nostro lavoro Oggi siamo Un po' In balia Dell'epoca Di questa epoca E quindi Della Della globalizzazione Delle 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 multinazionali Delle Società Che si muovono Come loro Pensano Di doversi muovere Con il doppiaggio Tant'è vero Che ci sono stati Nel corso Di questi ultimi anni Molte Conflittualità Con la parte Della clientela Del doppiaggio Perché questi signori Sono arrivati E hanno Imposto Dei Dictat Hanno Imposto Delle regole Che per loro Era normalissimo Fare Nel senso che Chiaramente Il cliente Arriva e ti dice Quello che gli serve Non si è reso Neanche conto Che noi venivamo Da un mondo Nel quale Eravamo noi A dire Quello che bisognava Fare al cliente Avevamo noi Il controllo Ecco In questi decenni Siamo riusciti A perdere Quasi completamente Il controllo Del doppiaggio E questo Ha portato Dei problemi Che sono attivi Che sono vivi Che sono presenti In questo settore E questo un po' È un peccato Perché Il doppiaggio Non è Andrea Ward O Francesco Pannofino Piuttosto Che Francesco Burkain Il doppiaggio È anche I miei figli Al quale io Ho insegnato Questo mestiere A tutti i giovani Che stanno approcciando A Le centinaia Di giovani allievi Che vengono sfornati Ormai Ogni anno Dalle decine E decine Di corsi di doppiaggio Che ci sono in giro Che vanno benissimo Per carità Però anche quello È un fenomeno Che non può essere Lasciato Allo stato brato Parlo delle scuole Di doppiaggio Cioè Tu devi capire Di quanti Professionisti Nuovi Ha bisogno Il doppiaggio E comunicarlo A chi fa Dei corsi E dirgli Guarda Noi abbiamo bisogno Di venti persone Nella fascia Dai cinquanta Ai sessant'anni Di quindici donne Che sono nella fascia Dai venticinque Ai quarantacinque anni E poi Di cento bambini Che vanno Dai dodici Ai sedici anni Per dirti Faccio degli esempi A caso Ovviamente In modo che Con i corsi Con le scuole Vai a colmare Quelle che sono Le carenze Di una professione Ma questo Bisognerebbe farlo Con tutte le professioni Eh Proprio tutte 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 Perché se no Poi ti ritrovi Un numero Inesubero Di gente Alla quale È stata Promessa È stata fatta Una promessa Di Raggiungimento Di uno scopo Perché se tu fai Un corso E poi si presuppone Che quel corso Lo finisci E qualcuno Dice bravo Ti do l'attestato Da doppiatore Comincia ad andare in giro A farti sentire Nelle sale Questo è quello Che in realtà Avviene tutti i giorni A Roma In maniera molto Molto Frequente Quindi cosa succede Che se c'è un esubero Di nuovi allievi Eh c'è qualcuno Che deve rimanere a casa E rischiamo Che ci sia qualche Professionista Che rimane a casa Perché magari La curiosità No Di Di provare Con un nuovo Giovane Con una voce nuova Eh L'effetto Che fa Insomma adesso io Butto delle cose così Ma questo credo Che sia un fenomeno Che ahimè Ha già in qualche maniera Allogorato Eh questo settore Perché io sono Sono a conoscenza Di professionisti Che lavorano pochissimo E parliamo di gente Che ha Alle spalle Una carriera importante Di decenni Non sono vecchi Non sono anziani Ma non sono neanche Più ragazzini Di primo pelo Hanno magari Trenta Venticinque Trentacinque Anni Di carriera Alle spalle Quindi ecco Eh il fatto Di non Controllare Di non gestire Proprio Eh Alcuni dei fenomeni Tra cui le scuole Di doppiaggio Sono uno di questi Fenomeni E il controllo Della qualità Del modus operandi In cui si Mettono le mani Su un Sul doppiaggio Di un film Perché Il doppiaggio Di un Di un prodotto Che sia un film Piuttosto che un cartone È un'operazione Molto delicata Perché noi andiamo Ad estrapolare Una lingua originale Girata in un'altra Nazione Con altri attori E ci infiliamo Un'altra lingua Completamente Diversa Che è stata incisa In un'altra nazione In uno studio Sconosciuto Eh È uno stupro Che deve essere Quindi Applicato Con sapienza Bisogna saperlo fare E farlo E saperlo fare bene Proprio per non andare A tradire Per non andare A rompere Per non andare A deludere Il pubblico Chi poi Guarderà Questo Questo prodotto Questa è una cosa Importantissima Perché Eh Perché parlo di perdita Di controllo Di eccesso Per esempio Nella Eh Nell'inserimento Di alcune nuove pratiche Perché Perché il doppiaggio Ha vinto In questo paese Per decenni Per decenni Perché il doppiaggio Portava un valore Aggiunto al film Perché il doppiaggio Ha portato Con i suoi grandissimi Professionisti Del passato E anche in anni E anche in anni recenti Un valore Aggiunto Al doppiaggio Di un cartoon O di una commedia Piuttosto che un documentario Di un reality Eccetera 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 Cioè Dare Approfittando Della Dello spessore Professionale Artistico Dei doppiatori Degli attori Che fanno doppiaggio Quel qualcosina In più Che magari Sul set Non sono riusciti A raggiungere E con la nostra Grandissima esperienza Che ci viene Dall'altissimo Il grandissimo Eh Allenamento Che noi facciamo Come attori Siamo Siamo stati Ma siamo ancora In grado Di mettere a disposizione Se sparisce Quel piccolo valore aggiunto Che il doppiaggio dà Cominciano i problemi Perché se il doppiaggio Perde il suo valore aggiunto In alcuni casi Ancora rari Per fortuna Ma cominciano ad esserci Il doppiaggio Diventa Un danno al prodotto Non so se sono stato Chiaro E' molto profonda Questa riflessione No no Si è stato molto chiaro Poi hai citato Il fatto delle piattaforme Il rispetto Della Della forma Donda Del Perché Poi Nei vari doppiaggi In tutte le lingue Deve rispettare In quella forma Donda I tempi Si stanno Restringendo Adesso è uscito Questo simil sync Perché Nei documentari C'è questa voce simile Sotto Originale E poi la voce Doppiaggio Sopra alta Ti è cambiato la sensazione Che si dice Tecnicamente perfetto Perché Il sync è perfetto La voce è perfetta La dizione è perfetta Tutto perfetto Però Poi Il risultato È piatto Certo Che mi è capitato Sono Sono visioni Diverse Che Hanno In qualche maniera Indebolito Il doppiaggio Perché La forma Donda Sì Anche il fonico Di mix Quando Si finisce Un doppiaggio Ha Sulla sua Console Alcune Tecnologie Che gli consentono Di capire Se lui Sta rispettando I volumi I livelli Dell'originale Perché anche Il fonico Di mix Quando va Ad operare Il mixaggio Deve rispettare L'originale Del mix Originale Ecco perché Sulle console Hanno queste Macchine Inserite Nella console Che gli Permettono Di controllare Se per esempio Il livello Del volume È uguale A quello Dell'originale Se l'intensità Dei bassi È identica A quella Dell'originale E tutte queste Cosine Via dicendo No? Tecniche Molto Legate Soltanto Al proprio Al suono In generale Voce Compresa Ma dentro Al mix Ovviamente C'è La musica Ci sono Gli effetti Speciali C'è Tutto Quanto C'è Tutto Il suono C'è Tutto Il suono Di un Film E ovviamente Di questo Bisogna Tenere conto Ma il doppiaggio Non deve tradire Il significato Delle parole Espresse E Le emozioni Nel senso Che se in una scena Il mio personaggio A un certo punto Ha una scena Drammatica E deve Far scappare Una lacrimuccia Al pubblico Lo stesso Devo riuscire Ad ottenere Io Mentre sono A leggio E doppio Il mio personaggio Se a un certo punto Deve scoppiare Una risata Perché c'è Una battuta Che è stata tradotta In italiano E in quel punto In quell'esatto punto Il pubblico È previsto Che rida E lo stesso Dobbiamo riuscire A fare Con il doppiaggio All'interno Di questi parametri Che non possono Essere traditi Perché il doppiaggio Non deve ovviamente Tradire Il significato E le emozioni Originali Perché se no Non ha più senso Era la difficoltà Che i doppiatori Avevano Quando Qualche anno fa Quando c'erano Le sitcom Perché difficoltà Perché nella sitcom Magari c'erano Delle battute Ti ricordi che c'erano Alcune serie Dove addirittura C'erano Le risate Del pubblico Che facevano Parte del suono E noi Ce le ritrovavamo Ce le ritrovavamo Sulla colonna Internazionale Quindi Rimanevano Quelle risate Anche con la versione Italiana Però Le sitcom Avevano il problema Che magari Gli americani Facevano una battuta Su un personaggio Famosissimo In America Ma che noi Non conoscevamo Per cui Lasciata Identica All'originale Tradotta Quella battuta In Italia Non faceva ridere E quindi Si doveva trovare Un'alternativa Per forza Oppure Facevano Un esempio Di una frase Costruita In maniera particolare In americano Che faceva Morire dal ridere In America Ma che da noi Non aveva alcun significato E per cui Bisognava cambiare Trovare un'alternativa Che non fosse Fuorviante Ma che portasse Il pubblico A ridere In quell'esatto punto Tutto il resto È gestibile Perché io lo devo Gestire Compatibilmente Con I tempi Che ho a disposizione No? Che La società stessa Quando riceve un film Ti dicono Guarda Questo esce Deve essere al cinema Fra due mesi E tu ti devi muovere In quei due mesi Fare tutto Quello che c'è da fare In doppiaggio E le cose Sono sicuro che tu Sei al correntissimo Tutte le fasi Non solo la traduzione Poi l'adattamento Ma lo svisceramento La suddivisione in anelli La preparazione Del copione tecnico Per il doppiaggio La preparazione E delle convocazione Delle convocazioni Per gli attori Le convocazioni stesse Il direttore Che prima delle convocazioni Deve fare il cast E quindi decidere Decidere Personaggio per personaggio Quali sono Le due o tre voci Giuste No? Per essere distribuite Su quel tipo di ruolo Eccetera eccetera Con un'attenzione Maniacale Ovviamente Anche alla tipologia Della voce Ma lì c'è Una possibilità Di Libera scelta Nel senso Che io Se trovo Su una faccia Di un attore Ho Un doppiatore Che mi dà Il 90% Di riconoscibilità Della voce Cioè Un doppiatore Che ha una voce Molto simile A quel personaggio Però quel doppiatore Non è disponibile Perché sta facendo teatro Fai conto E quindi devo trovare Un'alternativa Non ho un'altra alternativa Di voce così simile Però Ho due alternative Che riesco a trovare Di voci Che sono comunque Credibili Sulla fisicità Di quell'attore Sul volto Di quell'attore Questa è una cosa Che viene fatta Tutti i giorni Nel doppiaggio Perché non sempre Si trova La voce Simile Simile A quella Del doppiatore Originario E non è un errore Va benissimo L'importante È che sia credibile Quello che non funziona È quando noi mettiamo Su un afroamericano Fai conto Che fa un agente Dell'FBI Di 55 anni Che pesa 115 chili E ha una voce Bassa Tenorile Di questa American Guai Che fa Che parla Così E sopra Ci metto La voce Di un doppiatore Che magari Ha 45 anni Però ha la voce Di un ragazzo Di 22 Che magari È un doppiatore Bravo Quotatissimo Ma la voce È sbagliata Perché se tu clicchi Con un tasto Per andare a sentire La voce originale Senti che c'è Una diversità Nelle scelte Che non Non si comprende Perché C'è sempre Una possibilità Di scelta Sì Ti può capitare Su cento volte Ti capita una volta Che proprio Non c'è Nessuno Tra i doppiatori Che tu puoi mettere A disposizione Su quell'attore Ma è rarissimo E si trova comunque Un'alternativa Credibile Basta cercare Faremo un piccolo esempio Perché Top Gear In Italia Non è più trasmesso Perché chiaramente Sono cambiati Anche I presentatori Però Esempio Piero Baldi Doppiava Jeremy In realtà Jeremy Ha una voce Molto Molto profonda Cioè Molto Cupa In realtà Piero Baldi È una voce Molto Pisquilale Però Era molto Come hai detto Che Era La voce Adatta Perfettamente Al personaggio Cioè Alla fisionomia Del personaggio Ubaldi Era perfettamente Idoneo A quelle caratteristiche Perché Perché L'ha reso Anche più Più Brillante Perché Il personaggio Già lui È divertente Nel suo Parlare Però Lui L'ha reso Chiaramente Nei suoi Comportamenti A fatto sì Che Piero Baldi Ci azzeccasse Perfettamente Quale personaggio Che hai fatto Tantissimi Personaggi Però Se la gente Ti incontra Quali È quelli Più frequentemente Che ti vengono Ricordati E Poi Ti fanno Anche Forse Ti fanno Anche La battuta Del personaggio Qual è Secondo Te La maggior Parte Delle volte Per i cartoni Animati Per Goku Di Dragon Ball Street Fighter Personaggi Di questo tipo Oppure Delle serie Delle serie Di telefilm Tipo Call Case Tipo Il Commissario Rex Questi Questi seriali Qua La cosa più bella Di tutte Quando io parlo Magari Dentro un negozio O in una banca No In un posto Dove non sanno Non sanno Chi sono E qualcuno Mi riconosce Riconosce La mia voce Sentono Questa voce E mi dicono Ma lei per caso È il doppiatore È il doppiatore No Un Lei è il doppiatore Io sono un doppiatore Sì Oppure Vedono il cognome Vedono Word Pensano A mio fratello Ovviamente E mi fanno Fratello Fratello Sì Sì Questo è Questo è bellissimo Quindi Quando ti guardano Ti dicono Ti è capitato Che la persona Girandoti Sentendo la tua voce Dice Non ti ha chiamato Per il nome Chiamando e non conoscono Però ti hanno chiamato Quel nome del personaggio Che hai fatto Allora Mi è successa una cosa Molto Molto divertente Tanti anni fa Io doppiavo Una delle tante Telenovelas Che andavano In onda E quella che doppiavo io Era Quando si ama E un'estate Andammo in vacanza In Sicilia Con mia moglie E allora Avevamo un solo figlio Ancora Alessio Il primo genito Andammo a trovare Degli amici Giù in Sicilia In questa terra Meravigliosa Dove io ero già stato Diverse volte Anche per fare teatro E andammo Dalle parti di Sciacca Un paesino In Sicilia In Sicilia Molto Molto gradevole E Sapevano che sarei arrivato Perché eravamo stati invitati Da degli amici E Alcune famiglie Ci invitavano A prendere un caffè Prima di pranzo Prima di cena Eccetera Con Un mio grandissimo stupore Perché non mi sarei mai Aspettato una cosa del genere Non mi era mai capitato Andavamo a prendere Molto volentieri Questo caffè E La cosa Che mi ha fulminato Perché non c'è altro termine È che loro mi parlavano Cioè si rivolgevano a me Questi siciliani Come se io fossi il personaggio Di quando si ama Cioè loro mi dicevano Ma tipo Poi Quella che è la tua ragazza Poi nei prossimi episodi Secondo te Ti lascerà Cioè si rivolgevano a me Come se io fossi Ma neanche l'attore che doppiavo Che era Ron Nummi Molto Molto divertente Io rimasi molto Molto colpito Da questa cosa Ma in maniera Positiva In maniera piacevole Perché loro Si immedesimavano Proprio nella storia Che vedevano in televisione Quindi è la Dimostrazione Proprio di quanto A volte Il pubblico Sia Affezionato Alle cose che vede No? A una serie Che magari decide Di seguire Poi all'epoca Le telenovelas Erano lunghissime Duravano anni Per i doppiatori Erano uno stipendio Praticamente Ti chiamava la società E ti dicevano Signor Ward Abbiamo Selezionato un personaggio Per lei Che Almeno al momento Sappiamo che Sarà nella telenovelas Per i prossimi tre anni Quindi per noi era Come avere uno stipendio E i doppiatori Lo stipendio Non ce l'hanno mai Nella vita Però Capito Molto molto particolare Molto molto carina Come cosa Devo dire Noi come fan Del mondo del doppiaggio Tu hai fatto Tanti personaggi Che poche volte Ti vengono forse citati Come Sapernatural La serie tv Ma soprattutto Il gruppo TNT Ma anche Altri personaggi Perché Tu sei cresciuto Cioè noi siamo cresciuti Anche Akira Hai fatto anche Un personaggio di Akira Che poi Akira abbiamo visto Che rientra un pochettino Nel mondo world Perché anche Gli altri persone Parte della famiglia Hanno fatto world Non Dall'altra parte Di Monica Hanno fatto anche Akira Che cosa ti rimane Che cosa ti rimane Se ti rimane Perché a volte È difficile ricordarti Tutto quello Che si fa Un pochettino Di tutti questi lavori Soprattutto Nelle anime Manga Perché il manga È un pochettino Più complesso Rispetto A una serie tv classica Ma guarda È un po' lunga La faccenda Qui in effetti Perché cercherò Di essere brevissimo Per quanto riguarda I manga Io praticamente Ho cominciato Con Dragon Ball Con la prima serie Oav La famosa serie In VHS Di questa serie Negli anni 80 Addirittura In realtà Poi Ho avuto La fortuna Di Avvicinarmi Al mondo Dei manga Grazie ai miei figli Che sono degli appassionati Proprio Sfegatati Sono tutti Dei nerd Pazzeschi E sono Molto molto Preparati Su Tutti i prodotti Che vengono Da quel tipo Da quel Posto del mondo Lì Io ho il grande Per esempio Ma anche il secondo Sono andati Più volte in Giappone Appunto Per Affinare Le loro conoscenze Sia della lingua Che del Del mondo Giapponese Eccetera Ma In particolare Io ho avuto Modo Nel tempo Perché Quando sono arrivati Questi prodotti In Italia Non c'era una Grandissima Considerazione Perché non erano Conosciuti Non si Non si capiva La La cultura Base Dalla quale venivano Quello che volevano Esprimere E hanno Malgrado Tutto Invece Attecchito Fortemente Nella gioventù Italiana Ci sono Moltissimi Ragazzi Che ormai Sono grandi Sono uomini Che hanno Si sono appassionati A queste A questi prodotti A queste serie Alcuni addirittura Li hanno prima Seguiti Nei fumetti Poi questi fumetti Sono diventati Delle serie Quindi Ma c'è stata Diciamo Una risposta Da parte dei giovani Italiani Importantissima Ed è quella Che per esempio A me Mi ha dato Ha dato Modo Di Informarmi Di essere Più preparato Sulla Sull'argomento È stata Una fortuna In questo In questo senso Perché poi Alla fine Di questi prodotti Ne sono arrivati Tantissimi Fino a che Dopo Un paio Di decenni Dal loro Approdo Qualcuno Ha addirittura Decido Molto Intelligentemente Di Portarli Al cinema Ed è proprio Il caso Di Dragon Ball La prima Distribuzione A portare Al cinema Dragon Ball È stata La Key Red Guarda caso Una distribuzione Indipendente Di Andrea Occhipinti Che ha capito Che ai giovani Quel tipo di prodotto Piaceva Che erano Che c'era uno Uno zoccolo duro Di giovani Appassionati In maniera Fanatica Addirittura Oserei dire Entusiastica E per i giovani È stata Un'esplosione La Key Red Fece Una Performance Cinematografica Che durava La lunghezza Di un weekend Cioè Fece un sabato E una domenica Di proiettazione Proiezioni Fecero il tutto Esaurito In Praticamente Tre proiezioni Perché mi pare Che fosse Sabato sera Domenica pomeriggio E poi domenica sera Del giorno dopo E in tre proiezioni Hanno incassato L'ira di Dio Cioè hanno avuto Un successo Poi di pubblico Straordinario Benché si trattasse Di un weekend Di un weekend Poi ci sono stati Altri fenomeni Che si sono Aggiunti Ed è stato Un bene Perché I giovani Bisogna Capirli E bisogna Anche accontentarli Per cui A un certo punto Hanno capito Che c'erano Una serie di prodotti Che arrivavano Da una parte Lontana del mondo Che aveva Trovato una Casa In qualche maniera In questo paese Sono tra l'altro Per riagganciarmi A quello Di cui stavamo Parlando prima Della riconoscibilità Spessissimo Mi parlano Di me Come doppiatore In questi cartoni animati Lo stesso Bobby Junior Che nella prima serie Ha doppiato Mio fratello Luca Poi nella seconda L'ho doppiato io Street Fighter Inui Asha Ce ne sono tante Di cui adesso In questo momento Magari non ricordo il titolo Ma ce ne sono Veramente tante Tante Che hanno Avuto un Un seguito importante Come giusto Che fosse Poi alla fine Perché ci hanno dato Modo di Apprendere Una Cultura Molto Molto lontana Dalla nostra Molto diversa Dalla nostra Tra i tanti personaggi Appunto Io ho citato Bob Rock Il gruppo TNT Che veniva Trasmesso In Supergulp E Però C'è un pochettino Il legame In World In Supergulp Perché Ricordiamo Che in realtà Il Il personaggio Di Di Supergulp Era gestito Era doppiato Da un certo personaggio Che Lo conosci benissimo E Arriva parte Della famiglia Che è tuo nonno Certo Certo Carletto Romano Come no Fatto un personaggio Che Vabbè Jerry Lewis Tutti lo conoscono Ma in realtà Il personaggio Che piace a me Il più È Nick Carter Nick Carter Certo E poi La voce originale Cioè Era la voce sua Perché poi Nel documentario Quella con la quale Vinse il provino Sì Perché lui fece Un provino Al Nisse Che era un grande Stabilimento di doppiaggio Che era Tra la Duscolana E Lappia E provò Sette Otto Voci diverse Ma il regista Non era soddisfatto Non trovavano la quadra Infatti Nel documentario C'è Nel documentario C'è Nel documentario Video Si vede C'è Lui a un certo punto Carletto Che dice al regista Diceva Io le ho provate tutte Se volete Possiamo provare Con la mia voce naturale E il regista Disse Eh Lo sa che non è mica male Proviamo E quella E quella Infatti E così andò Andò in porto Con la sua voce Perché aveva naturalmente Proprio una voce Eh Da car Da carattere Carletto E quindi Fece quella saga Stupenda Che io ricordo benissimo Da bambino Fumetti in tv Dove c'era Anche Nick Carter Senza E se infatti Ha lasciato la sensazione Di entrare nel mondo Di supergroup Tramite Bobbo Rocker Ma all'epoca Stiamo parlando Di tantissimi anni fa Per cui non ti nascondo Che non ho Moltissimi ricordi Di quella Di quella Lavorazione Eh Però Bisogna sempre partire Da un presupposto Che in linea di massima Un doppiatore È un artista E quindi Quando l'artista Ha la possibilità Di esprimere Il suo talento Eh Se l'artista È puro Tra l'altro Cioè Non ce n'è per nessuno Nel senso che addirittura Il compenso economico Passa in secondo piano Eh È più importante Sapere che tu hai fatto Una cosa Che poi andrà in onda Quel giorno Quella sera Su quel determinato canale Piuttosto Piuttosto che altro Eh E l'entusiasmo È sempre Alle stelle In questo senso Perché Eh La possibilità Di Trasmettere Ad un pubblico Il proprio talento Eh Puoi immaginare Ovviamente La soddisfazione Quando poi ci sono Dei legami Anche familiari Eh Che legano La mia famiglia Uno step temporale Molto Molto lungo Perché appunto Partiamo da Carletto Romano Che Insomma È una generazione Lontanissima Dalla mia Eh Poi siamo arrivati noi Poi sono arrivati i nostri figli Eh Io ricordo per esempio La gioia La soddisfazione Ma proprio L'emozione Eh Viscerale Di quando Mio figlio Alessio Doppiò Il Osment Nel Nel film Il sesto senso Che tra l'altro Era un film Particolarissimo Diciamo che è uno Degli Eh Dei film Che hanno Tracciato Il nuovo Cinema da quel momento in poi Un po' come è stato Pulp Fiction In qualche maniera Anche il sesto senso Ha portato innovazione Nel cinema Nel modo di fare regia Di fare Eh Di un racconto cinematografico Qualcosa che ti lasci a bocca aperta Perché c'è qualcosa di nuovo Che nessuno aveva mai visto In quella In quel film Eh Sono emozioni forti Sono emozioni forti Perché Avere la fortuna Di poter trasmettere Tra i propri figli Una forma di arte Così importante Perché poi insomma Noi siamo molto abituati Al doppiaggio Ci siamo cresciuti dentro Nel vero senso della parola Tutti noi Io Monica Luca Ametello Tutti quanti Ma Trasmettere qualcosa Al futuro È un po' Pensare a una sorta di immortalità In qualche maniera Ecco perché è importante Proteggere questo mestiere Il più possibile Come combattenti proprio Questo è un periodo storico In cui bisogna capire che O si combatte O si muore In qualche maniera No? Se no Altrimenti il doppiaggio Rischia di diventare Tra qualche decennio Non lontanissimo Una cosa di nicchia Per pochissimi prodotti Perché comunque I ragazzi Cominciano a parlare Le lingue I miei figli Parlano per esempio Tutti quanti Correttamente l'americano E capiscono Traducono benissimo Anche gli slang Per esempio No? Eh Ma Non sono solo i miei figli I miei figli Lo hanno fatto Perché Eh Questa evidentemente È un'esigenza Che i giovani Di quella generazione Hanno E considera Che i miei figli Sono quattro Il primo Ha trentasei anni E l'ultima Che è femmina Ne ha ventidue Hanno più o meno Tutti quattro anni Di distanza L'uno dall'altro Quindi Prendono un lasso Temporale Importante Non sono tutti Più o meno Della stessa età Capisci cosa Cosa intendo Ecco Allora Il fatto di poter Trasmettere Di sapere Che questo mestiere Che è Eh Applicato Con una grandissima Professionalità Una grandissima qualità In Italia Solo in Italia Che qualcuno Ha tentato Addirittura Di farlo Nel proprio paese Eh Mettendo in campo Dei Comparti Professionali Che sono lontani Da quello che siamo riusciti A fare Noi Un po' come Eh L'americano Che prova a fare La carbonara No La carbonara Si fa in cinque minuti Veri Ci mette più Il tempo di cottura Della pasta Che A preparare il condimento Ma se tu non conosci I segreti Se tu non sai Spadellare Il bucatino Quando viene Buttato Dall'acqua bollente Alla padella Per essere rosolato Insieme alle uova Che non si devono cuocere mai Ma deve diventare una cremina Ma se tu non conosci Il segreto La carbonara Come Come la facciamo noi Non la mangerai mai È un po' questo Un po' è Faccio questo esempio Perché il cibo Anche Eh Anche sotto attacco No In questo momento Nel nostro paese In maniera Veramente Inaccettabile E Però questo Questo Regala un'emozione Che per un padre Per un artista È Un risultato Straordinario Capisci cosa intendo Cioè È un'occasione È una Un ponte Sul futuro È Un ponte Per la storia Che non bisogna Mai dimenticare Mai dimenticare Ecco Questo Mi piacerebbe Chiudere questa intervista Un po' così Dicendoti Con il cuore in mano Che io mi auguro Da parte Dei Professionisti Di questa Nobile arte Che ci sia la possibilità Di recuperare Un po' di rispetto Per questo mestiere Soprattutto Da parte Di chi Si è nutrito Per anni Di questo mestiere Di chi Si è abbeverato A questa fonte Perché è stata Una vera e propria Fonte Per chi ha potuto Fare questo mestiere Ecco Io mi auguro Questo Tra l'altro Come me Ci sono Decine e decine Di colleghi Che hanno insegnato Questo mestiere Ai propri figli Per fortuna E questo ovviamente Non può che essere Un bene Quindi Dovrebbero anche Loro Trovare questo tipo Di motivazione Dentro di Di loro No? In qualche maniera Cominciare a farsi Qualche domanda Allora Noi Tindando Noi Tindando Ti ringraziamo Ti hanno mai chiesto Di fare delle voci Dei personaggi Oppure Non ti hanno mai chiesto Che qualcuno Che ti incontra E ti dice Ma sai Mi faresti Per favore Sì Sì Il guaglio è che Spesso Non ci ricordiamo Di cosa parlano Nel senso che O ti dicono Ecco Il Kamehameha Di Dragon Ball Ovviamente È nella memoria Di tutti E anche nella mia Ci mancherebbe altro Poi ci sono alcune cose Che magari Non ti Ti nego Che si fa difficoltà A ricordare Compreso il fatto Che a volte Mi narrano Di protagonisti O coprotagonisti Doppiati E ti dicono Tutta la storia Del film E tutto quanto E tu stai lì Con un bel sorriso Stampato in faccia Non ti ricordi Non ti ricordi manco De quale film Si tratta Ma questo Non è assolutamente Dovuto All'arrivo Della senilità Ma è dovuto Al fatto Che come Ti raccontavo Prima Noi facciamo Decine e decine Di roba All'anno Al mese Alla settimana Quindi ovviamente Poi la memoria Sai A volte I ricordi Li mette dentro A dei cassettini Che o Ti tirano fuori L'aneddoto magico La parolina magica Oppure fai difficoltà A A narrare Però diciamo Che quando Quando vengo riconosciuto In qualsiasi Ambiente Qualsiasi Sia la persona E la fascia D'età Che questa persona Ha Il fatto Di sapere Che io sono Un doppiatore Accende Accende entusiasmi Ti cominciano A fare delle domande Vogliono sapere Ti chiedono L'autografo Ti chiedono Come sta Tuo fratello Tua sorella Cioè Si accende E' come Se io incontrassi Un calciatore Piuttosto che Un pilota Di formula 1 No Sono un appassionato Quindi Credo che sia Un po' Quella la cosa Ecco Vedi la luce Nei loro occhi Che si Che si accende Del Sentire la tua voce Si Si E questo è bellissimo Questa è una cosa stupenda Questa è una cosa stupenda Perché insomma Poi Tu lo sai Che ci sono anche I detrattori No Non è che il doppiaggio Ha soltanto dei fan Anche nell'ambiente Dello spettacolo Ci sono i detrattori Del doppiaggio Come ogni lavoro Ma Il doppiaggio E' andato avanti Lo stesso Per tanti Tante decine di anni Alla grande Ed è servito Soprattutto a Spargere la comunicazione Un po' Perdonami Ci mancano saluti finali A comunicare Diciamo Il più possibile Il prodotto È un È un Moltiplicatore Di incassi Ma soprattutto Di ascolti E questa è la cosa Che bisogna capire Senza il doppiaggio Lo vedono in dieci Con il doppiaggio Lo vedono in cento E questo è importante Allora È un piacere Non ti conoscevo Quindi è stata Un'ottima occasione Per E E niente Ti auguro Una buona serata E speriamo Di Ribeccarci presto Per un'altra Chiacchierata Studio 7 TV E Sport Picciano Game Hanno presentato L'intervista di Pietro Ospite della puntata L'intervista di Pietro 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 L'intervista di Pietro